Oltre al Samsung Chromebook 2 nell'inedito formato da 13 pollici, debutta al Cebit 2014 anche il Chromebook 2 ARM da 11 pollici. Chromebook 2 perché è la seconda generazione dei Chromebook ARM-based di Samsung, anche se in realtà è la terza generazione dei Chromebook Samsung Serie 5, perché preceduta da altre due equipaggiate con processore Intel X86. Samsung, quindi pioniere dei Chromebook, cerca di cavalcare il fenomeno Chrome OS con una nuova gamma di portatili rinnovati anche nel design, che riprende la finitura soft feel della cover che simula un rivestimento in pelle con il bordo impunturato, già vista su altri recenti prodotti Samsung come Note 3 e Note 10.1 2014. Gli ingombri restano ridottissimi, si tratta infatti di un ultraportatile a forte vocazione mobile, leggero e compatto. Lo spessore scende da 17,5 mm del Chromebook ARM precedente a 16,8 mm, mentre il peso aumenta di qualche grammo e si attesta sul chilo e 200 grammi. La dotazione tecnica migliora con il passaggio di un processore Samsung Exynos 5420 Octa 8 Core al 1,9 GHz. Significativo è l'aumento di RAM che passa da 2 a 4 GB, a montare massimo perché coesisteranno anche configurazioni da 2 GB, mentre resta invariato lo storage con soli 16 GB allo stato solido nella prospettiva che possiate usare un cloud storage come Google Drive. Le interfacce sono distribuite sui due lati, una porta USB 2.0 e jack audio combo sul lato destro, connettore di alimentazione, una seconda porta USB 3.0, uscita video, HDMI e slot per le schede di memoria sul lato sinistro. La tastiera è di tipo ad isola con tasti quadrati per migliorare l'ergonomia. È una tastiera estesa che copre tutta la superficie disponibile in larghezza ed è quindi perfetta per scrivere email o modificare documenti. Da notare una serie di pulsanti funzione lungo il bordo superiore dedicati espressamente a Chrome OS. Sotto la tastiera trova posto un touchpad incastonato in una raffinata cornice cromata. Il touchpad ha pulsanti di selezione sotto la superficie sensibile e supporto multigesture. Passiamo allo schermo che ha una diagonale di 11,6 pollici e risoluzioni HD da 1366 x 768 pixel con rivestimento opaco, caratteristiche consuete per i Chromebook Samsung. Sulla parte superiore della cornice dello schermo c'è anche una webcam 720p integrata con microfono. Oltre al Chromebook 2 11, l'abbiamo visto in apertura, c'è anche una versione da 13,3 pollici con schermo full HD di tipo glossy che qui vediamo in colorazione silver. A differenza del fratello maggiore, invece, per il Chromebook 2 da 11 pollici sono previste soltanto le tinte nera o bianca, comunque più che sufficienti per coprire i gusti di un'ampia platea di utenti. Samsung Chromebook 2 11 sarà in vendita negli Stati Uniti da aprile al prezzo iniziale di 320 dollari. Per il momento non sono state divulgate informazioni circa un'eventuale disponibilità in Italia.